Maestro, lei ha curato moltissime regie d'opera, non ne parliamo qui perché ci prenderebbe tutta l'intervista, però ero interessata a capire come poi alcune opere lei ha scelto anche di portarle al grande schermo, come le ha scelte? Chi si pensavano di più? L'Aida non l'ho portata, ho portato Otello, ho portato Amleto, poi la Bohème, la Tosca, Traviata, tanta roba. Quindi una questione di storie, le storie che erano più adatte al cinema? Eh sì, Traviata è fatta per il cinema, infatti è venuto a fare un film bellissimo. Senta, ci racconta dell'amicizia con Maria Callas? Tanti eravamo completamente coetanei, nati nel 1923 tutti e due, era divertente, penso non si ricorda, ma si ricordava come matti. E poi era questo genio, qualunque cosa toccava, era un'altra cosa da quello che fanno le gente, la gente al mondo, aveva dei doti di visione e penetrazione del mistero della creazione, come non ho visto mai nessuno. Era molto precisa, lei voleva che quello che dava al mondo fosse di diamanti puri, di pietre ineguagliabili. Infatti c'era in lei una qualità di carattere diverso. E per questa amicizia straordinaria che vi regava, che lei ha scelto in qualche modo di concludere, poi decidiamo insieme se è conclusa la carriera cinematografica con quel film dedicato a Callas, con l'interpretazione di Fanny Ardano. E' stato un errore quel film, secondo le regole che governano il mercato commerciale, perché se fai una regola così, se fai e evochi un personaggio famoso, grandioso, devi vederlo rifugere nel successo. E quindi fanno film sulla Callas, io l'ho fatto al rovescio, l'ho fatto perché questa donna era finita, aveva la mia voce, il dramma di una e che inventano la storia di usare la sua voce incisa e poi vedere recitare. E' un azicocolo che non ha funzionato. La gente voleva vedere la Scala strionfata. Allora non lo consideriamo il suo ultimo film? Ci dica che sta lavorando ad un prossimo progetto cinematografico. Ha qualche idea? So che lei vorrebbe fare un film forse per i giovani. Per me dovrei farlo perché mi direbbe, mi farebbe ritornare alle avventure giovanili. No, aveva un film in mente e anche molto avanzato. Il seguito di San Francisco con gli arabi a Gerusalemme. Tutta la predicazione a Gerusalemme è come una cosa straordinaria, come aveva capito che si erano affratellati i musulmani e i cristiani. Sarebbe di grande attualità? Sarebbe anche di grande attualità. So che le piacerebbe parlare d'amore ai giovani, forse lo potrebbe fare attraverso un film. Non si può esprimere ai giovani in modo emulativo l'amore, perché noi che siamo più agé, l'abbiamo sperimentato come, ma un altro tipo di sughino, di condimento. E' sempre quello lì, è sempre darsi e togliersi, esagerare, sognare. Sì, è sempre quello, guai se non ci fosse. Però ci sono delle pieghe, siccome i sessi si sono molto afficinati. La donna è diversa, non è più l'oggetto ideale, splendente come una gemma che tu ci facevi intorno un altare. Adesso la donna è una che compete con te a tutti i livelli e ci supera anche.